Il mio intervento era centrato fondamentalmente, ed è centrato diciamo nell'attività che sto svolgendo anche adesso, sul rivalorizzare le stazioni di servizio, perché è una grande infrastruttura a livello nazionale e con queste modificazioni anche nella mobilità da questo punto di vista e anche l'introduzione di nuove tecnologie, prima di modificare l'elettrico ovviamente da questo punto di vista, c'è bisogno di ripensare queste stazioni in termini di multifuels, cioè di molti vettori energetici per alimentazione, perché ci saranno macchine, veicoli in senso lato che richiedono combustibili o sistemi di alimentazione diversa, anche nella transizione, per essere più adeguati i due grandi vettori che potranno portare una vera e propria transizione e anche con un'economia adeguata da questo punto di vista saranno il metano e l'energia elettrica. Però le stazioni sono anche elementi di servizio alla mobilità e alle persone che fanno la mobilità, dagli autisti alle persone trasportate, quindi devono dare anche e diventare delle strutture multiservizio da questo punto di vista, che in parte lo sono già, specialmente quelle autostradali, tanto per fare un esempio più semplice, ma che si modificano con un aumento dei servizi da questo punto di vista. Una cosa interessante invece è tutte quelle stazioni che sono nella zona periferica delle città, all'interno della città ormai i distruttori non si fanno praticamente più per motivi di sicurezza e altro, e quindi stanno un po' tutte sulla cerchia più esterna, che normalmente ha anche quartieri meno belli, più degradati se vogliamo da questo punto di vista. E quindi la stazione di servizio in questo concetto di multifuel e di multiservice può essere un elemento importante anche che aiuta la riqualificazione del quartiere dove si trova, perché può diventare, attraverso anche multiservizi, diventare un centro di aggregazione e quindi di servizi più adeguati al quartiere che spesso non ne ha e quindi deve andare verso poi altre zone da questo punto di vista. Quindi su questo credo ci sia molto da lavorare proprio a livello di sviluppo, cioè cogliere l'occasione delle transizioni energetiche anche che coinvolgono la mobilità per fare anche, o utilizzarle anche per fare riqualificazione, anche urbana da questo punto di vista. A Como Lake 2023 c'è stata la possibilità di confrontarsi con colleghi, docenti universitari, con il mondo dell'imprenditoria, il mondo delle istituzioni? Sì, la manifestazione è indubbiamente interessante, ci sono state tante voci, quindi si è avuto modo di cogliere molti aspetti delle transizioni. Grazie.